Una firma, quella di Jacopo Giacchetti, attesa da lui stesso, che ci ha messo davvero poco dopo che è uscito dal contratto con Ravenna per scegliere Forlì, è vero? Sì, ho messo davvero poco, anche se ci sono state tante altre proposte, però Renato Pasquali con le sue chiamate, con la sua volontà di portarmi qua, mi ha convinto in un attimo. La città poi ha fatto il resto perché è veramente una città storica del basket, sempre ricordo di questi tifosi molto calorosi, quindi alla fine ci ho messo pochissimo e sono molto contento di essere qua, felice, non vedo l'ora di iniziare e di toglierci insieme delle soddisfazioni perché alla fine una città come questa, che sono rimaste veramente poche, così calde, così vogliose di basket, si merita qualcosa di importante. Jacopo, esperienza, leadership e cos'altro a beneficio della nuova Forlì che sta per nascere dal mercato? No, alla fine tutto me stesso, tutto me stesso perché ho voglia di vincere e ogni volta che scendo in campo scendo per quello, quindi alla fine cercherò di portare i miei compagni, la mia esperienza, magari la gestione nei possessi importanti, aiutare quando c'è un errore, quando c'è uno sbaglio e prendermi le mie responsabilità. Grazie.